Qualche genitore oggi ha voluto protestare dinanzi Palazzo Silone contro l'ordinanza del presidente Marco Marsilio che ha chiuso tutte le scuole in Abruzzo a parte nidi e infanzia. Una protesta che segue quella del primo giorno in DAD in vari punti della città. A spiegare perché l'ordinanza per loro è illegittima l'avvocato Alessia Giovannelli che è anche mamma di due bambini. Come sappiamo poi l'ordinanza è del 27 di febbraio e il 2 marzo è stato firmato il nuovo DPCM. Il nuovo DPCM ovviamente travolge l'ordinanza che non può avere efficacia oltre l'emissione e l'adozione del nuovo DPCM. Nel nuovo DPCM l'Abruzzo continua ad essere zona arancione. Quindi il governo ha stabilito ovviamente con tutte le valutazioni del caso, dei dati epidemiologici, dei verbali del CTS che l'Abruzzo deve comunque rientrare sempre in zona arancione con la possibilità di avere le scuole aperte. Quindi non capisco il motivo per cui il presidente della regione si ostina a non revocare questa ordinanza anche dopo la pronuncia del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato si è già espresso sul ricorso presentato da un singolo cittadino pur respingendo la richiesta di sospensiva. Con il suo decreto il giudice amministrativo in sostanza aderito di fatto al merito del ricorso. La decisione è stata rinviata al Tar dell'Aquila che il 24 marzo dovrà decidere sulla ragionevolezza dell'ordinanza di Marsilio. Il Tar del capoluogo in sostanza dovrà valutare la proporzionalità delle misure adottate dalla regione bilanciando il diritto all'istruzione e il diritto alla salute, entrambi costituzionalmente garantiti. Secondo il Consiglio di Stato appare di dubbio a legittimità la mancata posizione di un termine alla sospensione delle attività scolastiche. Il Consiglio di Stato ha anche ordinato al presidente della regione di depositare presso il Tar tutta la documentazione relativa agli esiti del monitoraggio effettuato allegando i dati scientifici in modo che il Tar possa effettuare il giudizio di ragionevolezza del provvedimento.